Sarà tutto il centro-sinistra più il Movimento 5 Stelle a sostenere la candidatura presidente della provincia del sindaco di vasto Francesco Menna. La competizione elettorale è in programma sabato 18 dicembre, chiamate al voto consiglieri e sindaci dei 104 comuni della provincia teatina. Due le liste e suo sostegno insieme per la provincia che comprende PD, Italia Viva, Movimento 5 Stelle e la lista civica Chiama Chieti e Provincia Verde che raggruppa insieme forze di sinistra e di centro. I candidati consiglieri di ogni lista sono 12. Menna. È una candidatura che nasce dal dialogo, dal confronto, dalla sintesi con i sindaci, con i territori, con gli equilibri territoriali. Un secondo mandato indubbiamente con un grande consenso popolare ma allo stesso tempo abbiamo riempito di gioia il verbo vincere, adesso dobbiamo riempire di gioia il verbo fare, il verbo operare, il verbo dialogare. Mi dice qual è la prima cosa da fare qualora lei venisse eletto? La prima cosa è rendere di ogni comune un fascicolo, un fascicolo fatto di fatti, di problemi, di questioni, di quesiti e operare su ciascun comune, quindi realizzare 104 fascicoli per 104 comuni per 104 questioni. Menna si è poi soffermato sulla concreta possibilità di agire sul territorio. C'è un ricominciamento, una rinascita nella funzione, nell'istituzione dell'ente provincia, rispetto a questa dobbiamo essere bravi, pronti, preparati, competenti per accertare, realizzare, programmare e quindi fare il bene della provincia di Gieti. Lo sfidante di Menna è il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, sostenuto da tutto il centro-destra. Telegrafico il messaggio da recapitarli. Sarò il presidente di tutti e per tutti.